Lo sto mettendo in direzione sud per un motivo, perché i nidi a volte, anche se non ovviamente per riprodursi, ma come rifugio per l'inverno, vengono utilizzati anche nei mesi pernali e quindi vanno sempre, quando vengono posizionati sugli alberi, sempre esposti a sud, perché ovviamente da sud arriva a livelli più caldi, quindi metterlo a nord vuol dire che praticamente si è sempre esposto, oltre che al freddo, comunque ha un tasso di unità anche più elevato, perché solitamente rimane un po' più fresco. Stiamo utilizzando i chiodi, ma non gli fa niente l'altro, anche perché è calipoppa. Grazie. 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 Grazie.